Radio Radicale, siamo con Paolo Trancassini, questore della Camera dei Diputati, per parlare del bilancio della Camera che è stato approvato la scorsa settimana ma che si è portato dietro tante polemiche tra il PD e il Movimento 5 Stelle da una parte e tutti gli altri partiti dall'altra per la società in house. Allora io ho visto che poi alla fine il bilancio l'hanno votato tutti quanti. Allora che cosa è successo? Perché io ho visto che in aula c'è stato anche uno scontro abbastanza forte, sono intervenuti Anna Scani, insomma è intervenuta anche tante altre persone che hanno contestato questa linea che avete seguito che però indubbiamente migliora la situazione dei lavoratori qua dentro. Allora innanzitutto un anno fa noi denunciamo una cosa che era notoria a tutti e cioè che c'erano tantissime persone che lavorano alla Camera, hanno stipendi da fame, per servizi che non erano comunque all'altezza. Quindi noi avevamo da una parte servizi non di qualità e dall'altra tutto questo mondo, parliamo di centinaia di persone che noi incontriamo tutti i giorni, parliamo di camerieri, parliamo di persone adibite alle pulizie, facchinaggio eccetera, che stando in cooperativa hanno innanzitutto un contratto di lavoro a tempo determinato, pur essendo qua dentro magari da decenni, perché si passano da cooperativa in cooperativa e dall'altra insomma stipendi molto molto bassi. Denunciamo questa situazione e questa situazione è oggettiva, non è che fu contestata e cominciamo a lavorare sulla possibilità di intervenire su appunto questa fattispecie. Proponemmo immediatamente di fare una società in house, ci fu risposto proprio dal PD e dal Movimento 5 Stelle, che bisognava approfondire prima di percorrere questa strada e per questo motivo abbiamo dato in carico a Ernest Young di fare un approfondimento facendo a questa società di revisione due domande. La prima, se era possibile un'altra strada, cioè è possibile risolvere questo problema percorrendo un'altra tipologia? E la risposta è stata no, certificata, messa per iscritto. La seconda era la fattibilità della società in house? La risposta è stata sì, utilizzando ovviamente quelle somme che normalmente sono diciamo di guadagno, cioè la società in house non deve guadagnare, mentre invece giustamente le cooperative, le imprese sì. E quindi abbiamo cominciato questo percorso, un percorso molto lungo perché a detta degli nostri, diciamo dell'opposizione, abbiamo stati, abbiamo fatto le cose di fretta. Un anno, mi pare un tempo più che ragionevole. Ne avevamo già parlato all'inizio della legislatura, insomma. Sì, però nel momento in cui abbiamo deciso di percorrere questa strada è passato sostanzialmente un anno. Ora, le contestazioni che mi sono state rivolte sono state le più disparate. Inizialmente che dovevamo fare un carrozzone, non si sa bene per quanti, diciamo per un CDA pieno è, che non è avvenuto, che avremmo dovuto sistemare alcune persone, che non è avvenuto perché ovviamente prendiamo tutte le persone che attualmente lavorano. Insomma, tutta una serie di contestazioni. Ultima è arrivata, e questo è il motivo della discussione in aula con la Presidente Toscani. Cioè, vabbè, ma se fate questo potevate assumerli. E non possono essere assunti, perché per essere assunti ci vuole un concorso pubblico. E allora nel momento in cui mi sono sentito dire che è possibile fare un concorso pubblico, decidendo prima chi vince il concorso pubblico, io ho detto che queste cose io non so come si fanno. Quindi un vestito su misura per 315 persone diventa un po' molto... Con il rischio che parecchi potevano essere esclusi, potevano essere... Ma come si fa a pensare di fare un concorso pubblico per entrare alle pulizioni? Col verdetto già scritto. Col verdetto già scritto. Cioè, una cosa che non è possibile. E questo, per carità, sarebbe stata la soluzione, ma insomma, sarebbe stata la soluzione migliore per i dipendenti. Adesso partiamo, partiamo dai primi di settembre e siamo convinti che miglioreremo i servizi e migliorerà la situazione di queste persone. Abbiamo cominciato dalle fasce di reddito più basse, quindi ci saranno 65-66 persone che avranno un aumento addirittura superiore al 40%, ma sono quelli che avevano veramente una busta paga da fame. E poi, insomma, un aumento medio del 15%, e poi speriamo, insomma, che la società vada al regime. Il bilancio l'hanno votato tutti, alla fine. Il bilancio l'hanno votato tutti. È un bilancio sano, che ha un ottimo avanzo, che, insomma, sottolinea anche una serie di risparmi che sono stati fatti. È calata la spesa del personale. Abbiamo mantenuto gli stessi servizi, abbassando la spesa. Insomma, quindi devo dire che funzionari, i dirigenti a cominciare della società generale hanno fatto un ottimo lavoro. Quindi lei è soddisfatto, insomma, di come sono andate le cose? Insomma, è soddisfatto per questa prima parte della legislatura e per il lavoro che siete riusciti a fare? Io sono molto soddisfatto di tutto il lavoro che abbiamo fatto, che è stato fatto, e anche di questa nuova strada che si è intrapresa. Mi dispiacciono le polemiche strumentali perché queste non alzano il livello della discussione e del confronto politico. Mi sarei aspettato che partendo dai lavoratori ci fosse maggiore condivisione, non una chiusura così a prioristica, che, insomma, per la verità è anche un po' sospetta, visto il tema. Grazie, grazie Paolo Tranchassini. Grazie.